E' una delle edicole più affollate, più frequentate nei pressi del centro storico, l'edicola del Ponte Storto di Via Roma. Purtroppo è un'edicola che chiude e questa è una perdita per tutta la città. Franche, Iosef e Mattioli, quali sono le cause di questa decisione? Innanzitutto le cause sono il mancato incasso per via di internet e poi anche per altre questioni di personale. Poi c'è questo progetto di questa pista ciclabile che io ancora non so se andrà in porto oppure no. Il Comune mi vuole spostare l'edicola, però questa la vogliono smantellare e metterne una nuova là. Io purtroppo economicamente non riesco. Se il Comune è disposto a darmi la mano, benvenga. Non vengo via per mia volontà, sono loro che mi vogliono mandare via. Non vengo via per mia volontà, capito? Poi non ho ricevuto una comunicazione, non ho ricevuto niente. Io in questo momento non so come fare. Aspetto che le cose vadano avanti, ecco. Ed era un'edicola frequentata da molti e molti cittadini, anche da personaggi di riguardo. Sì, addirittura qui da me una volta è venuto anche Sgarbi. Si è fermato, mi ha fatto i complimenti perché questa era una delle edicole più vecchie di Fano, voglio dire, ho avuto anche dei personaggi importanti. C'è anche il Vescovo, che il Vescovo qualche giorno fa è passato, è rimasto molto ammareggiato. Avevamo un rapporto quasi di amicizia, si parlava di tutto. All'edicola lui era diffuso anche nel Milan, quindi si parlava di calcio, un po' di tutto. Ecco sì, perché le edicole non sono solo un punto di vendita dei giornali, ma sono anche un punto di ritrovo, di chiacchiere, di conversazioni, di confronti sulle notizie del giorno. Ci sono delle edicole che per tirare avanti vendono qualcos'altro rispetto ai giornali. Era un'opportunità questa anche per lei? Se io metto su qualcos'altro, qualsiasi altro articolo, che poi questo articolo mi rimane invenduto, anche per me è mancato guadagno. Visto come vanno le cose, io fino adesso mi sono dato una regolata, cercavo di tenere le cose più richieste. Quindi questa è una decisione ormai in definitiva. Allora, innanzitutto devo dire che quando quelle poche volte che esco di casa, tutti mi fermano. Si lamentano perché queste edicole è chiusa, non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa fare. Il tour era diventato un punto di riferimento, si rideva, si scherzava, si faceva due chiacchiere. Se fosse stato per me avrei prolungato anche fino a dopo il giro ciclistico, però ho visto le condizioni e sono stato costretto ad antecipare. La vita dell'edicolante è una vita piuttosto dura. Ci si alza nel cuore della notte e in tutte le stagioni, d'inverno, d'estate, con la pioggia, con il sole, insomma è una cosa dura, vero? Sì, questo è vero, però io avevo talmente passione di questo lavoro che non mi pesava nell'orario, non mi pesava niente. Io la mattina non vedevo l'ora di venire a lavorare, anche perché io sono un tipo che mi piace lavorare. A che ora veniva? Allora, io di solito mi alzavo alle tre e mezza del mattino, arrivavo qui verso le quattro, essendo da solo dovevo fare tutto quanto. Alle cinque, un quarto, massimo cinque e mezza mi arrivava la roba e dopo cominciavo a avere disposizione della roba. Io volevo salutare tutta la mia clientela funzionata, mi dispiace per quello che è successo, non dipende da me e poi si vedrà.